L'IRPINIA 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 Per riscoprire un'identita territoriale, che è patrimonio inestimabile, da conoscere, valorizzare e trasmettere quale preziosa eredità futura. Prendete parte al Grand Tour in Irpinia, un evento itinerante articolato in sei tappe, ognuna delle quali sarà ambientata in una diversa epoca, dal 1300 al 1800. Sei serate a tema incentrate su di un personaggio storico e un prodotto tipico della tradizione locale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! 19 luglio, ore 19.30, Piazza Santuario, San Mango sul Calore, in contemporanea alla Sagra dei Fichi. Grand Tour in Irpinia. Raccontiamo storia e tradizioni del territorio.